Meldola, costruiamo appartamenti con una o due camere da letto, uso esclusivo del sottotetto, balcone, garage e posto auto, a partire da 139 mila euro. Forlivese di edificazione 0543 34 250. Trascop Group, la forza di un grande gruppo cooperativo. Trasporti e movimento terra, cave di inerti e produzione di calcestruzzi, conglomerati bituminosi a caldo e a freddo. Trascop Group, telefono 0543 800 888. Vuoi diventare un moderno imprenditore? La Commercianti Indipendenti Associati cerca giovani intraprendenti, diplomati e laureati da formare e avviare all'attività imprenditoriale nei supermercati Conad e Margherita. Per saperne di più, visita il sito www.conadfo.it o contattaci al numero 0543 80 0111. Con oltre 600 dipendenti nelle province di Forlicesena, Rimini e Pesaro, la cooperativa sociale CAD è una delle protagoniste del nostro welfare locale. La cooperativa ha realizzato per le edizioni SAPIM il suo primo bilancio sociale, il documento che identifica e analizza l'impatto dell'impresa sul territorio. Siamo con la presidente della cooperativa CAD, Elena Grilli. Per quale motivo avete affrontato questa piccola impresa? Ma diciamo che sì, questa piccola impresa, il bilancio sociale dell'anno 2004, è uno strumento di rendicontazione sia per i soci della cooperativa che per tutti i portatori di interesse nei confronti della cooperativa. Gli stakeholders per noi sono enti pubblici, privati, le organizzazioni sindacali, le associazioni che sono nel territorio. Abbiamo voluto rendere conto quindi non solo di un bilancio economico, ma anche delle attività, delle professionalità che sono presenti nella cooperativa e anche di parlare comunque di progettazione e sviluppo per il nostro futuro. CAD ha un progetto molto ambizioso che viene citato all'interno di questo bilancio sociale che è l'uscita dal salario medio convenzionale. Di che cosa si tratta e che tempi vi siete dati? Esiste un decreto del Ministero del Lavoro che impone alle cooperative sociali di pagare i contributi assicurativi e previdenziali, quindi ai fini pensionistici, in una misura inferiore a quello che è lo stipendio reale ed effettivo che il lavoratore percepisce. Questo si riflette nel futuro della vita lavorativa, nel senso che la pensione sarà poi più bassa. La nostra richiesta insieme ad altre cooperative di cui LegaCop si è fatta carico è stata quella di andare al superamento, cioè noi vogliamo pagare i contributi sul salario reale affinché i lavoratori possano avere una pensione decorosa nel momento in cui ne avranno bisogno. È chiaro che ha un obiettivo impegnativo perché richiede risorse, risorse economiche che in questo momento difficilmente possono essere trovate in più in quello che è il mercato. Quindi è la cooperativa che si deve organizzare in modo tale da trovarle all'interno delle sue forze e del suo bilancio economico e patrimoniale. Guglielmo Russo è il responsabile del settore servizi e cooperative sociali di LegaCop Forlice-Sena. In questo momento non facile di tagli della finanziaria ai servizi alla persona e agli enti pubblici, CAD ha deciso di rilanciare e di investire in innovazione. Per quale motivo? Sì, questo è un momento non facile perché la finanziaria appunto taglia pezzi consistenti di spesa pubblica per quanto riguarda il welfare e quindi ci troviamo, come dicono gli economisti, in un regime di risorse scarse per quanto riguarda i servizi alla persona a livello territoriale. La CAD fa una scelta coraggiosa e per noi di grande valore perché in un momento di grande difficoltà e di contrazione delle risorse decide di consolidare i risultati, decide di innovare rivisitando la propria struttura operativa, decide di consolidare i propri risultati tramite lo strumento del bilancio sociale. Per cui la CAD sostanzialmente conferma la propria mission di grande cooperative del sociale nel nostro territorio e vuole continuare a collocarsi nella fascia alta di welfare territoriale a livello provinciale. Monica Fantini è direttore di LegaCop Forlice-Sena. Che ruolo gioca la cooperazione sociale di cui fa parte CAD all'interno del welfare territoriale? Gioca un ruolo assolutamente importante perché è un ruolo innanzitutto che va verso il cittadino e va verso la cura della persona e soprattutto di quelle che sono le fasce deboli. CAD è una cooperativa che tra l'altro internamente inizia a col dare quel servizio che poi qualitativamente dà al di fuori con un'attenzione a quelli che sono i soci e le socie lavoratrici garantendo ovviamente un lavoro a tempo indeterminato, garantendo molte ore di formazione che vanno sull'aggiornamento ma non solo, vanno sulla creazione di nuove competenze che poi danno un futuro di crescita a queste persone e che in una forte attenzione, questo lo sottolineo, ha la conciliazione tra i tempi lavorativi e i tempi alla persona soprattutto per quello che è il mondo femminile e di cui CAD ha una grande attenzione. Consideriamo che oltre l'80% delle occupate di CAD sono appunto donne. Rosanna Francia è la curatrice del bilancio sociale di CAD, abbiamo visto una cooperativa quasi interamente al femminile, c'è un collega ogni nove donne. Io partirei da questo dato per presentare i numeri della cooperativa ma ti chiederei anche è difficile lavorare in un ambiente di questo genere? Non è una domanda facile quella che tu hai fatto. Non è difficile lavorare con le donne però occorre avere un'attenzione particolare perché le donne storicamente e culturalmente hanno compiti di cura più elevate rispetto alle figure maschili. Quindi per noi che lavoriamo con un 91% di donne fra i nostri operatori e sicuramente ha voluto dire organizzare i turni di lavoro e anche la concessione dei part-time tenendo conto anche di queste esigenze. Per dare un po' di numeri, siamo 628 operatori e su questi 628 operatori noi abbiamo concesso nel 2004 76 part-time. Di questi 76 part-time 65 sono state proprio richieste da donne che avevano esigenze o di cura di bimbi piccoli o di cura di genitori anziani. Solo 11 sono le richieste di part-time che vengono da operatori maschi. Quindi questo sicuramente è un dato di cui nell'organizzazione dei nostri servizi dobbiamo tener conto. Abbiamo detto, parliamo un po' di noi, di chi siamo. Abbiamo detto siamo 628, prevalentemente siamo soci, 570 soci rispetto al numero quindi molto basso di dipendenti. Essere soci per noi vuol dire appunto partecipare con il nostro lavoro ciascuno con la propria professionalità all'interno dei servizi che la cooperativa svolge ma anche essere partecipi attivi nei momenti assembleari essere ciascuno portatore di un voto quindi di essere attivi anche nella decisione, nelle decisioni che vengono prese e avere anche una forma di, diciamo così, redistribuzione degli utili della cooperativa che si può ottenere tramite ristorno sugli utili, dividendi o migliorie rispetto a quello che è il contratto collettivo nazionale di lavoro. CAD ha privilegiato una scelta di continuare in un momento anche difficile del mercato del lavoro a proporre assunzioni a tempo indeterminato. attualmente la maggior parte delle persone che sta lavorando in CAD ha un contratto a tempo indeterminato oltre il 90% ha un contratto a tempo indeterminato e soltanto una percentuale, mi sembra, dell'8% ha un contratto a tempo determinato. Il tempo determinato molte volte si associa alla copertura di assenze legata al diritto alla conservazione del posto, maternità torno a ricollegarmi con l'aspetto femminile della nostra dimensione aziendale o servizi che hanno una dimensione temporale di cui conosciamo già la data di fine cosa che invece normalmente sono servizi che si protraggono nel tempo. CAD ha investito molto anche in termini di formazione per i suoi operatori? La formazione penso che abbia un ruolo molto molto importante da noi sia come formazione per quanto riguarda l'acquisizione di qualifiche sto pensando al grande processo proprio di questi anni di trasformazione della figura professionale dell'addetto all'assistenza di base in operatorio socio-sanitario. Vede coinvolto circa 300 dei nostri operatori e sono percorsi formativi di almeno 95 ore. Vicino a questi però c'è tutto il processo formativo interno che ha visto nel 2004 oltre 100 iniziative formative per oltre 5.000 ore di formazione svolta legate sia all'acquisizione di competenze al rafforzamento delle competenze oltre naturalmente i temi legati alla qualità alla sicurezza ai regimi di gestione dei prodotti alimentari che noi trattiamo. Voi avete svolto anche un'indagine telefonica rispetto agli stakeholder che sono enti, istituzioni, sindacati i cosiddetti portatori di interesse cosa vi chiedono gli stakeholder? Allora intanto gli stakeholder hanno risposto positivamente alla nostra ricerca dando disponibilità e soprattutto fornendoci risposte e suggerimenti. Ci chiedono di comunicare di più di rendere visibili ancora di più i servizi che vengono svolti e di innovare i nostri servizi innovare proprio per essere ancora più attori partecipi nella costruzione di questo scenario di queste welfare locale. Grazie per la visione!